carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al cosiddetto catechismo romano, ossia il catechismo uscito fuori dall'elaborazione dogmatica del concilio di trento, abbiamo la volta scorsa approfondito il primo articolo del credo, siamo ancora alla divina onnipotenza, il credo è un Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, quindi dopo aver parlato dell'onnipotenza il catechismo immediatamente parte con la disamina creatore del cielo, cielo non soltanto come lo spazio diciamo così appunto impireo, soltanto che sovrasta la terra, diciamo come luogo trascendente ma soprattutto come luogo abitato dalle creature celesti, cioè gli angeli, quindi il primo argomento che tratta il catechismo è appunto la creazione angelica e della terra e quindi poi la creazione dell'uomo, così completa il primo articolo, credo è un Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, andiamoli subito a leggere senza troppo allungarci in introduzioni, numero 27, creazione degli angeli, Dio inoltre trasse dal nulla il mondo spirituale e gli angeli innumerevoli perché gli fossero ministri assidui, arricchendoli poi con i doni della sua ineffabile grazia e del suo alto potere. Le parole infatti della saga scrittura il diavolo non perseverò nel vero dimostrano nettamente come esso e gli altri angeli apostati avevano dalla loro origine ricevuto la grazia. Dice in proposito Sant'Agostino Dio creò gli angeli dotati di retta volontà, vale a dire animati da un casto amore che a lui li avvicinava dando loro l'essere ed elargendo insieme la grazia. Possiamo perciò ritenere che gli angeli santi non furono mai sprovvisti di rettitudine nella volontà, cioè dell'amore di Dio. E questo Sant'Agostino lo scrive nel Decivitate dei 12.9.2. Riguardo alla loro scienza abbiamo una dichiarazione dei libri sacri, ma tu mio Signore sei sapiente come è sapiente l'angelo di Dio sì che tutto conosci sulla terra. Infine il santo re Davide attribuisce loro la potenza dichiarando potenti gli angeli per intima virtù ed esecutori dell'ordine divino. Salmo 122.20. Anzi le Sacre Scritture li chiamano spesso forze ed eserciti del Signore. Purtroppo sebbene tutti arricchiti di tali doni celesti, molti avendo ripudiato Dio, loro padre e creatore furono espulsi dalle sublime sedi e chiusi nel carcere oscurissimo della terra dove pagano eternamente la pena della loro superbia. Di essi parla San Pietro, Dio non ha risparmiato gli angeli peccatori ma li ha precipitati nell'inferno abbandonandoli agli abissi delle tenebre dove li mantiene per il giudizio. Questo articolo è veramente molto importante perché la creazione angelica ci fa riflettere su una serie di verità di fede. Numero uno che anche gli angeli, sappiamo che dagli angeli vengono i demoni, i demoni sono la causa della nostra rovina perché l'uomo è diventato malvagio perché ha detto Amen alla tentazione diabolica. Certo gli ha detto Amen alla tentazione diabolica però certamente la tentazione diabolica c'è stata. Ora però in questo articolo c'è la risposta quantomeno indiretta ma anche se non neanche troppo alla domanda che molti uomini, molti di più dovrebbero essere apporsela, si fanno circa l'origine del male. Da dove viene il male? Perché il male non viene da Dio, perché tutte le cose che Dio ha fatto le ha fatte buone, gli angeli compresi. Non ha perseverato nella verità. Giustamente questa acuta citazione del Vangelo II Giovanni 844. Quindi anche gli angeli sono stati creati corretta volontà, casto amore, ingrazia. Quindi la loro perversione è dovuta ad un atto disordinato, mosso dalla superbia, ribelle, della loro volontà. Quindi l'origine del male è da ricercare nella volontà delle creature intelligenti. Solo lì la volontà perversa degli angeli prima, degli uomini poi. E dalla perversione di queste volontà dipendono tutti i mali che noi conosciamo appunto come mali fisici, psichici, morali, spirituali. Quindi attribuire a Dio in qualunque modo la causa del male è una delle forme più gravi in assoluto che ci possa essere di bestemmia. Anche se non tutti forse ne sono così coscienti. La bestemmia non è solo e nemmeno principalmente dare degli epiteti ingiuriosi a Dio, la Madonna e i Santi. Certo, queste sono bestemmie orribili. Prestare la bocca a Satana. Ecco, ma attribuire a Dio la causa del male non c'entra proprio niente, non c'entra, quindi in nessun modo. Poi, creazione dei viventi. Dio inoltre con la sua però la volle che la terra, ben fondata sulla sua stabilità, avesse posto nella parte centrale del mondo e fece sì che le montagne si innalzassero e le valli si aprissero nei punti designati. Sono tutte quante citazioni di Salmi. E perché l'acqua non la sommergesse, fissò il confine oltre il quale mai si spingesse l'inondazione. Quindi vi spiego sopra una magnifica veste di alberi, di erbe e di fiori, come antecedentemente aveva popolato l'acqua e l'aria di innumerevoli specie animali, così fece per la terra. Ora, soltanto una brevissima parentesi, perché noi siamo in tempi dove, come ben sappiamo, il cosiddetto creazionismo è stato ripudiato. Cioè, tutto ciò che è sulla terra in particolare, ma non solo, viene spiegato mediante il ricorso ad altre fonti di spiegazioni, alcune scientifiche, altre pseudoscientifiche. Ora, ciò che si deve ritenere come dato di fede, è appunto che il processo creativo, ed è un processo creativo che parte dal nulla, creazio ex nichilo, rei e subiecti, si dice con un'espressione tecnica, viene da Dio. La varietà delle erbe, degli alberi, viene da Dio. Privarsi di questa bellissima verità di fede, significa anche, non soltanto un disconoscere l'opera di Dio, ma privarsi della possibilità di entrare in contatto con Lui, quindi di ricevere il suo amore, attraverso gli enti creati, che sono stati fatti per noi. L'uomo è il principe del creato, tutto quello che è al di sotto di noi, è stato fatto da Dio per noi, ma se io penso che Dio non c'entra a niente, quindi che c'era questa terra, cioè che tutto quello che è avvenuto sul pianeta Terra è frutto di processi spontanei, come li definiscono, io vorrei semplicemente dire moderni, non so neanche se è già troppo definirli pensatori, insomma, perché, vabbè, se uno entra in questo orizzonte, Dio non c'è, l'atto creativo non c'è, però attenzione a essere troppo disinvolti nell'abbracciare queste cose, perché credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del Cielo e della Terra, se ci credi ci credi, se non ci credi non ci credi, eh? Allora, ci sono delle contraddizioni, le contraddizioni che ci sono tra la fede e la scienza, o tra la fede e la ragione, sono sempre apparenti, cioè, o la questione non è posta nei termini corretti, cioè i dati non sono in realtà contraddittori, ma sono semplicemente eterogenei, quindi non possono essere messi in paragone, perché il principio di contraddizione è violato quando due cose si dice di una stessa cosa, all'opposto, nello stesso senso e sotto lo stesso aspetto. Oppure, quando questo dovesse accadere, ci sono due possibilità, o la scienza non è scienza, o la fede non è fede. Terzium non datur. Allora, per esempio, c'hanno ragione gli evoluzionisti o c'ha ragione la rivelazione. Qui purtroppo non si può sfuggire a questa domanda e cercare delle vie di conciliazioni è campo minato per quanto mi riguarda. Quindi che cosa significa? Significa che molte di queste teorie, peraltro in alcune cose è stata ampiamente dimostrato, basta cercare su YouTube i video del professor Zichichi quando parla di queste cose. Lui ha, come dire, ha asfaltato più di qualche volta gli evoluzionisti e non con argomenti, come dire, inconsistenti, ma con argomenti rigorosi. Quindi relegando, come deve essere legata questa corrente di pensiero a quella che è una pura ipotesi, una teoria, una teoria, tra virgolette, scientifica. Teoria significa che fino a quando non viene adeguatamente dimostrata non può essere presentata come al di sopra dei dogmi di fede, perché così di fatto viene trattato. Questo è, ma basta guardarsi in giro, libri di testo, documentari, eccetera. I dati sono completamente acclarati e tutto ciò che attiene al discorso della creazione non se ne parla proprio più. Quindi o la scienza non è scienza o la fede non è fede. Io faccio sempre l'esempio, non so se l'ho già fatto in questa sede, di una cosa che destò problemi, che è appunto il famoso fermatio sole, no, dell'episodio venuto durante la conquista della terra promessa, di una delle tante battaglie di Israele contro i suoi nemici, in cui appunto per consentire a Israele di sgominarli, si protrasse il corso del giorno e che lo scalpore, perché appunto se il sole si ferma vuol dire che il sole si muove, quindi che la terra è ferma. Il problema è che quello che si legge nella Bibbia, si legge evidentemente che un dato vero, cioè che la giornata si è protratta oltre il numero delle ore ordinariamente previsto, espresso però in termini comprensibili alle culture e alle popolazioni che erano destinatarie ai tempi in cui furono scritti quei testi del messaggio. Chiaro che se fosse stato scritto oggi quel testo non si direbbe, non si diceva fermati al sole, si diceva fermati al terra, d'accordo? Quindi, però se c'è una verità di fede, una verità scientifica, queste due sicuramente devono andare d'accordo, perché San Tommaso d'Aquino ha detto chiaramente, non è possibile che, perché se una cosa è vera, si dice in latino, cioè ogni cosa vera da chiunque venga, viene sempre da Dio, quindi una cosa vera non può contraddire un'altra cosa vera. Le verità di fede sovrastano la ragione, ma non la contraddicono, non la contraddicono, non siamo in grado di afferrarle perfettamente appunto perché sono trascendenti e non possono contraddire le verità scientifiche, quando si trascendenti. Ora, la creazione dell'uomo. Infine, Dio trasse dal fango l'uomo, organizzandolo corporalmente in modo tale da divenire suscettibile, non per forza di natura, ma per beneficio divino, di immortalità e di impassibilità. Creò poi la sua anima a immagine e similitudine propria, dotandolo di libero arbitrio e temperando in lui gli istinti e gli appetiti in modo che mai potessero sopraffare il dominio della ragione. Aggiunse il meraviglioso dono della giustizia originale e volle che l'uomo comandasse a tutti gli animali. Tutto ciò del resto potrà essere attinto agevolmente dai parroci per l'istruzione dei fedeli dalla storia sacra del Genesi. Ecco così spiegato quel che deve intendersi nell'inciso relativo alla creazione del cielo e della terra. Il profeta vi ha già tutto brevemente riassunto con le parole tuoi sono signore, i cieli e la terra. Tu hai fondato il globo terraqueo e quanto lo riempi. Molto più sinteticamente si è espresso ai padri del concilio niceno introducendo nel simbolo due vocamboli le cose visibili e le invisibili. Tutto ciò infatti che compreso nell'universo riconosciamo creato da Dio o cade sotto la percezione dei nostri sensi ed è detto visibile o può essere percepito solamente dalla nostra ragione di intelligenza ed è chiamato invisibile. Vedete la linearità. Ora il problema di queste cose ripeto è che la mentalità contemporanea sulla base di ripeto presunte verità scientifiche ha messo sotto scacco tutta questa roba qui relegandola fondamentalmente a livello del mito. Io ho persone che mi dicono che a scuola ai figli e mi dicono guarda che i racconti della grazione sono un mito e mica tu ti devi stare a dare letta. Purtroppo alcune di queste cose sono entrate anche nella esegesi moderna contemporanea di natura e di matrice originariamente protestante ma adesso si è diffusa anche in ambito cattolico insieme ai dati cioè alle asserzioni che sono assolutamente inaccettabili non sarebbero mai state fatte in altri contesti storici tipo per esempio l'inesistenza di Adam e Eva o l'inesistenza di Abramo o l'inesistenza di Mosè o il fatto che il passaggio del Mar Rosso mica tu starei a pensare che il nostro Signore ha sospinto il vento del mare e che si è fatto una muraglia di acqua a destra e a sinistra Israele è passato in mezzo e poi gli egiziani sono stati sommersi dal mare ma anche no mica staremo a dare letta a queste sciocchezze no? questo si chiama razionalismo cioè dal momento che tu una cosa ti rifiuti di credere che ci possa essere un Dio che è capace di come dire fermare quelle stesse leggi che lui ha creato cosa che è perfettamente ragionevole perché chi ha fatto una cosa se vuole ne può tranquillamente prescindere perché fa parte del pacchetto fa parte delle regole del gioco è chiaro che se tu tutto quello che non spieghi non lo accetti il discorso è finito il discorso è finito rimangono certamente delle zone nebulose, misteriose anche qui noi dobbiamo fare delle scelte cosa faccio io? mi addentro in queste zone nebulose e misteriose anche relativamente a questi temi oppure mi tengo il dato di fede anche al rischio di apparire come dire sciocco e che ne so contrario alla scienza medievale non so che tipo di epiteti si possano dare a queste cose no? attenzione che comunque uno la pensi i dati di fede oggettivi non possono non essere ritenuti per dirsi cattolici e quindi per stare in comunione con la chiesa e con il suo insegnamento e non essere quindi eretici formalmente o materialmente ora l'ultimo paragrafo quindi passare al secondo attivo al secondo articolo è la divina provvidenza che è il numero 30 non dobbiamo però concepire la nostra fede in Dio creatore e autore di tutte le cose in modo da supporre che queste compiutasi l'opera creativa possano sussistere indipendentemente dalla sua potenza divina tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui si legge nella lettera di San Paolo tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui e tutte in lui sussistono la sussistenza nell'essere come tutto per assurgere all'esistenza fu suscitato dalla saggia e buona onipotenza del creatore così tutto sentite che bella questa espressione ripiomberebbe istantaneamente nel nulla se l'eterna sua provvidenza non assistesse il creato e non lo conservasse attenzione con la medesima virtù che gli diede l'essere questa è una verità sovente dimenticata io tu che mi stai ascoltando se Dio cessasse di mantenerti nell'essere con un'operazione analoga a quella che ha fatto dandotelo l'essere non è che tu muori nono tu piombi nel nulla ripiomberebbe istantaneamente nel nulla quindi pensate semplicemente ripetendo su questa cosa cioè la nefandezza l'orrore proprio cioè stupite nei cieli non riditene come non mai si legge nella sacra scrittura di una bestemmia e qui parliamo della bestemmia la bestemmia da la volgarità di ingiure rivolte a Dio cioè una creatura che viene dal nulla quindi che è stata attratta dal nulla da colui che viene bestemmiato e conservato nell'essere da colui che viene bestemmiato osa fare una cosa del genere e guardiamo anche la classe di nostro signore no? che non è che siccome la creatura osa fare una cosa del genere veramente dice beh piomba nel nulla da cui sei venuta no non lo fa e non lo fa neanche quando pecchiamo e non lo ha fatto neanche con gli spiriti ribelli lo attesta la sacra scrittura proseguo la lettura che cosa potrebbe sussistere se tu non lo volessi e se non fossi ogni ora sorretto da te che cosa potrebbe conservarsi anche questo è oggetto di fede noi non abbiamo l'evidenza di questo a me sembra che ci sto parlo bevo mangio mi muovo mica noi avvertiamo non credo almeno io no l'opera di mantenimento nell'essere di conservazione nell'essere che incessantemente io sto operando con tutti gli anticreati non soltanto con me chi vede il video di questa di questa catechesi tutte le cose che si vedono alle mie spalle quindi una sedia una scrivania un cero un quadro un mobile sono conservati nell'essere dall'azione divina tutto quello che noi vediamo viene da dio come opera quindi come creatura e da dio stesso è conservata nell'essere altrimenti verrebbe dal nulla da cui tornerebbe nel nulla da cui è stata tratta non solo ancora dio non solamente tutela e regge l'universo con la sua provvidenza ma attenzione spinge con intima efficacia al movimento e all'azione tutto ciò che si muove opera nel mondo non già sopprimendo l'efficienza delle cause seconde bensì prevenendola la sua efficacia misteriosa raggiunge le singole realtà e secondo la parola della sapienza opera con potenza di un'estremità all'altra del mondo e tutto governa suavemente annunciando agli atenesi quel dio che si adoravano senza conoscerlo l'apostolo esclamava egli non è lontano da ciascuno di noi perché lui abbiamo la vita il movimento e l'essere quindi anche tutto ciò che si muove e opera nel mondo è retto ed è diciamo così consentito da questa operazione della divina provvidenza io non vorrei adesso fare un'invasione di campo vorrei invitare però a ritenere bene questi concetti a parte che tutti quanti devono farlo perché questi sono ticoli di fede ma specialmente a chi è interessato a un altro ambito diciamo così in cui si svolge la mia povera predicazione che è quello della divina volontà perché questi sono concetti per esempio per capire le liberazioni fatte da Gesù chiamiamole presunte perché uno va a che non crede c'è a Luisa Piccarreta cioè se uno non ha chiarissimi questi concetti quindi della creazione e della conservazione di tutti gli enti nell'essere da parte di Dio non capisce niente di 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 molti di quei discorsi che si fanno Gesù stesso dice non ne capiranno un H ciò che significa per esempio che una persona entra nella divina volontà e istantaneamente può mettere i propri atti di amore di adorazione di riparazione in tutto ciò che fu è e sarà perché la divina volontà con un atto solo abbraccia tutto ciò che ha fatto e tutto ciò che conserva nell'essere nel suo insieme quindi come atto come dire globale e qui ci perderemmo ma anche come il minimo dettaglio particolare infine l'atto creativo è comune alla Santissima Trinità e basti per quanto riguarda la spiegazione del primo articolo aggiungeremo tuttavia che l'opera della creazione è comune a tutte le persone della Santa indivisa Trinità poiché mentre in questo articolo del simbolo degli apostoli confessiamo Dio Padre creatore del cielo e della terra nelle sagre scritture leggiamo del figlio tutto è stato fatto per suo mezzo e dello Spirito Santo lo Spirito del Signore leggeva sulle acque e altrove nel verbo del Signore i cieli sono stati resistabili e dallo Spirito della sua bocca è profuito ogni loro pregio credo che abbiamo già avuto modo di dire proprio in questo ciclo di catechesi che dire credo in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra quindi è una è attribuire quindi la creazione alla prima persona si chiamano tecnicamente in teologia appunto le attribuzioni le attribuzioni non sono le proprietà ma sono appunto delle operazioni che vengono attribuite ad una persona non perché le fa lei e le altre sono fuori perché tutto ciò che Dio è e fa e tutto quanto fatto in maniera congiunta non ci sono azioni salvo quelle derivanti dalla diversità delle relazioni d'origine che sono appunto le proprietà divine innascibile del Padre generato il Figlio procedendo lo Spirito Santo il resto è tutto fatto insieme si attribuisce a Dio la creazione perché essendo appunto la prima persona della Santissima Trinità quindi l'innascibile quindi l'origine anche della Santissima Trinità stessa gli si attribuisce appunto l'origine anche di tutte quante le cose create ma non è un'operazione del Padre ripeto con gli altri due che stanno a guardare perché tutte quante le cose sono state create dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo quindi si tratta sempre di azioni congiunte da parte delle tre divine persone fuori di sé questo è quello che dice questo articolo articolo 2 in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore allora quanto mirabile ricco vantaggio si sia riversato su tutto il genere umano dalla fede e dalla confessione di questo articolo lo mostrano da una parte la testimonianza di Giovanni che scrive chi professerà che Gesù è il figlio di Dio Dio di mora in lui e degli in Dio sia da quella testata di beatitudine elargito da nostro Signore al Principe degli Apostoli Beato te Simone figlio di Giona perché non te l'ha rinevato la carne o il sangue ma il Padre mio che è nei cieli questo è il fondamento più saldo della nostra salvezza e redenzione ma per intenderne a pieno di ripercussioni benefiche occorre insistere specialmente sulla perdita di quel fecellicissimo stato in cui Dio aveva collocato i primi rappresentanti del genere umano curi perciò il parroco che i fedeli vengano a conoscere la causa delle nostre misere condizioni e qui si è prodotto un discorso amici cari sul peccato originale il discorso sul peccato originale è di una basilarità assolutamente unica perché senza questo discorso non soltanto l'opera ma l'utilità dei misteri della nostra salvezza derivanti dall'incarnazione non possono essere adeguatamente compresi non possono perché Gesù è venuto sulla terra in condizioni in queste condizioni sappiamo che i teologi e qui ci hanno visto bene quelli della scuola francescana si sono posti la domanda ma se l'uomo non avesse peccato il verbo si sarebbe incarnato San Tommaso da Quino diceva di no perché per lui il verbo è il redentore ma Dunscoto diceva di sì sarebbe stata un'incarnazione differente non sarebbe stata un'incarnazione nell'umiltà non ci sarebbero state sofferenze sarebbe stata la nobilitazione di tutto il creato nel verbo incarnato perché siccome nell'uomo che è un microcosmo tutte quante le specie di essere create da Dio sono contenute se io prendo un uomo e lo unisco ipostaticamente quindi fin dal momento ovviamente del concepimento in modo tale che non sia neanche un istante in cui quell'uomo è sussistito da solo quindi fuori dell'unione ipostatica con la persona seconda della Santissima Trinità quindi fare questa operazione significa elevare e onorare tutto quanto il creato di cosa di avere raggiunto in quell'uomo unito ipostaticamente al verbo divino la massima e in assoluta insuperabile unione con Dio ma questa è nobilitante anche per noi enormemente nobilitante per noi ora essendo però intercorso il peccato dell'uomo l'incarnazione non è stata come sarebbe potuto essere ma diversa non nella gloria ma nell'umiltà non per ricevere l'omaggio delle creature il nostro signor Gesù Cristo ha ricevuto per la maggioranza delle persone che ha incontrato l'omaggio che ci infaccia e non senza umiltà e sofferenze ma anzi al colmo dell'umiliazione al colmo delle sofferenze sofferte per la nostra redenzione riprendo la lettura del Catechismo numero 33 che parla della caduta dell'uomo Adamo mancò all'obbedienza con il trasgredire il comando mangerai frutti di qualsiasi albero del paradiso ma non toccherai quelli dell'albero della scienza del bene e del male perché il giorno in cui li toccherai ne morirai ecco questo è un altro esempio di fatto vero accaduto all'origine dell'umanità è chiaro che bisogna provare se ci si riesce a discernere ma che cosa è questo albero della scienza del bene e del male qual è la scienza che Dio non voleva che l'uomo apprendesse lasciando questa scelta però come prova la sua libertà ecco se posso fare un pit stop di consigli per l'acquisti di questo tema cioè su questo tema si è stato dedicato un clino ciclo di catechesi che si chiama il peccato originale l'origine di ogni male si trova ovviamente come tutti i miei materiali dovunque non solo su youtube ma anche nelle piattaforme podcast e lì ci sono diverse cose credo carine su cui confrontarsi quindi caduto che cosa succede che cade perciò in tanta disgrazia da perdere senz'altro la santità e la giustizia in cui era stato posto e da subire tutti quegli altri malanni che il concilio tridentino spiegò ampiamente sessione quinta canone 1 e 2 sessione sesta canone 1 ricorderanno i pastori che il peccato e la sua pena non sono rimasti circoscritti dal suo ladano ma da lui seme e causa si sono naturalmente propagati a tutta la posterità anche qui questa verità di fede è imprescindibile imprescindibile cioè che c'è stato un capostipito del genere umano creato da Dio una donna anche lei insieme a lui capostipito del genere umano tratta dall'uomo e che le cose sono andate esattamente così il peccato originale parte dalla donna coinvolge l'uomo coinvolgendo l'uomo quindi trascinando l'uomo che era il capostipito del genere umano ne vulnera in maniera irreversibile tutti i discendenti tutti nessuno escluso salvo unico caso che la donna è rimasta esente da questa cosa perché c'è stato un intervento specifico e direttissimo della Santissima Trinità altrimenti l'anima della Madonna sarebbe stata come tutte le altre anime per quanto bella per quanto dotata sarebbe avrebbe dovuto fare questo orribilissimo percorso di avvilimento no? cosa che non è stata a numero 34 necessità della fede nel Redentore risollevare il genere umano precipitato dall'altissimo grado di dignità ricondurlo al suo primiero stato non era impresa proporzionata alle forze degli uomini o degli angeli l'unico rimedio possibile alla rovina dei mali era che l'infinita virtù del figlio di Dio assunta la fragilità della nostra carne cancellasse l'infinita malizia del peccato e ci riconciliasse a prezzo del suo sangue questo è interessante qui vedete che ricondurlo al suo primiero stato a redenzione no? credere e professare il mistero della redenzione è e fu sempre per gli uomini necessario al conseguimento della salvezza per questo Dio lo annunziò fin dall'inizio così nell'atto stesso di condanna questo è il famoso protocangelo Genesi 3.15 scagliato sull'uman genere subito dopo il peccato fu indicata la speranza della redenzione nelle parole con cui preannunziò il demano alla sconfitta a cui avrebbe costretto con la liberazione degli uomini porrò in vicissima fratella donna fra il tuo e il tuo seme essa ti schiaccerà il capo e tu insiderai il suo tallone più tardi confermò ripetute volte la medesima promessa manifestando il proprio disegno in una maniera più esplicita soprattutto a coloro cui volle dar prova di singolare benevolenza tale mistero fu spesso accennato fra gli altri al patriarca Abramo e in modo apertissimo quando egli docile ai comandi di Dio stette per immolare l'unico suo figlio Isacco disse infatti poiché hai fatto ciò non risparmiando il tuo enigenito ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e la rene numerevole sulla sponda del mare possederà essa le porte dei tuoi nemici nel seme tuo saranno benedette tutte le genti della terra perché hai obbedito alla mia voce dalle quali parole era naturale ricavare che dalla progenie di Abramo sarebbe uscito colui che doveva donare la salvezza a tutti gli affrancati dal gioco in mane di Satana ora il liberatore non poteva essere altri che il figlio di Dio uscito dalla progenie di Abramo secondo la carne bellissimo perché qui in maniera assolutamente lineare stanno proprio stagliandosi tutte quante le meravigliose verità della nostra fede divina e cattolica poco più tardi perché il ricordo della promessa fosse conservato il signore estrense il medesimo patto con Giacobbe nipote di Abramo capo tra l'altro proprio da Giacobbe in persona scendono dai suoi dodici figli discendono le dodici tribù di Israele quindi Abramo scusate è il patriarca quindi è il capostipite ma il popolo dell'antica alleanza deriva la sua conformazione dai dodici figli di Giacobbe nel sogno a Giacobbe infatti gli apparva una scala appoggiata sulla terra e toccante con l'apito dei cieli e sulla scala vide gli angeli di Dio scendere e salire come narò la scrittura e udì il Signore dal sommo della scala dirgli io sono il Signore il Dio di Abramo tuo padre il Dio di Isacco darò la terra su cui dormi a te e alla tua posterità numerosa come la polvere della terra ti propagherai a Oriente Occidente settentrione e a Mezzogiorno sarò una benedetta in te e nella tua semenza tutte le tribù della terra Dio non resistette da rinnovare la promessa suscitando il senso dell'attesa tra i discendenti di Abramo e tra molti altri ancora anzi ben organizzata sia la società e la religione dei giudei essa divenne anche più nota in mezzo al popolo molte furono le figure e le profezie delle grandi cose buone che il Salvatore e il Redentore nostro ci avrebbe arrecato in particolare i profeti il cui spirito era illuminato da luce celeste apertamente quasi vi fossero presenti preannunziarono al popolo la nascita del figlio di Dio le opere ammirabili che fatto uomo avrebbe compiuto la sua dottrina i costumi la sua vita la morte la desurrezione e tutti gli altri suoi misteri sicché se prescindiamo dalla diversità che è tra futuro e passato vediamo che nessuna divergenza sussiste tra le predizioni dei profeti e la predicazione degli apostoli tra la fede dei vecchi patriarchi e la nostra spieghiamo ora tutte le parti di questo articolo allora anche qui bellissimo il la sintesi operata cioè punto primo il popolo dell'antica alleanza fino a quando non venne il nostro signore quindi istituendo la nuova alleanza era tale perché le promesse fatte da Dio e le benedizioni fatte da Dio si sono poi realizzate è chiaro è chiaro che i profeti hanno da subito cominciato a parlare a profetizzare appunto la nascita del figlio di Dio le opere mirabili la dottrina dei costumi la vita la morte la resurrezione molti conoscono giustamente Isaia che è proprio il cantore anche delle atroci sofferenze cioè nel libro del profeta Isaia ci sono proprio alcuni passaggi che sono una descrizione dettagliata di quello che sarebbe stata la la passione veramente impressionante e nessuna divergenza vedete se prescindiamo fra futuro e passato futuro e passato sono categorie amici cari che esistono per noi sono categorie attenzione reali in questo mondo non sono fantasie ma sono lo stato caratteristico la condizione caratteristica del nostro stato di viatori in questa valle di lacrime ma il mondo di Dio è l'eternità non è il tempo quindi quando qui si dice prescindiamo dalla diversità che è tra futuro e passato e vediamo che nessuna divergenza sussiste tra le predizioni dei profeti e la predicazione degli apostoli tra la fede dei patriarchi e la nostra questo non dobbiamo dimenticarlo mai non dobbiamo dimenticarlo mai cioè concepire la storia della salvezza come un unicum in cui Dio manda dolcemente i suoi figli il suo popolo dell'antica e della nuova alleanza verso il fine muovendoli senza diventare la loro libertà mai e per nessun motivo però lo fa lo fa e quindi il ruolo corretto in cui collocare il nostro signore è proprio è proprio lì cioè lui doveva essere lì e doveva essere e come lo è stato un membro effettivo di una tribù ebraica cioè lui era Gesù è nato in Palestina è nato in mezzo agli ebrei non è nato altrove e apparteneva ad una ben precisa tribù che è la tribù regale è la tribù di Giuda il motivo per cui Gesù è nato a Betlemme è stato il censimento ordinato da Cesare Augusto che ha costretto tutte quante le tribù di Giuda per esempio a convergere a Betlemme perché Betlemme era come dire la sede della tribù di Giuda altrimenti Gesù non sarebbe nato a Betlemme perché perché la sede della tribù di Giuda era a Betlemme bisogna andare a vedere la spartizione così facciamo anche un pochino di storia sacra quando arrivano nella terra promessa con Gesù si spartiscono proprio i territori della terra promessa Zabulon per esempio va a nord Neftali pure Dan pure la Giudea da cui derivano i Giudei è appunto la terra toccata in sorte a Giuda grande Giuda che era uno dei dodici figli di Giacobbe e la terra del territorio di Giuda comprendeva Gerusalemme e Betlemme perché sta a sud della Palestina Eframi Beniamino Manasse i dodici figli quindi c'è un'unità organica e a partire appunto dal fatto dell'incarnazione di Gesù che Gesù attenzione ha osservato la legge giudaica lo osservava fino evidentemente a quando non è istituito la nuova alleanza ma l'istituzione della nuova alleanza è venuta con un gesto sacramentale è stata fatta nell'ultima cena fino a quel momento valeva l'antica alleanza l'antica alleanza era stata partiva dal sigillo chiesto da Dio ad Abramo che era la circoncisione e poi rinnovata l'alleanza con Mosè l'alleanza fondata con Mosè si fonda sull'osservanza dei dieci comandamenti tu osservi i dieci comandamenti e io ti benedirò con ogni benedizione c'è tutta quanta la la saga diciamo così dell'antico testamento in cui tutte quante le disgrazie capitate al popolo di Dio castighi punizioni esili distruzione di tempio è una costante sono sempre interpretati sempre interpretati come conseguenza della loro trasgressione della legge di Dio violavano l'alleanza e Dio li richiamava all'osservanza di essa forza ora andiamo a questo bellissimo possiamo fare l'ultimo articolo poi l'ultimo numero più che articolo perché questo articolo lo potete immaginare è molto lungo andiamo a leggerlo il nome di Gesù imposto per divino comando è ben appropriato al Redentore in Gesù Cristo credo in Gesù Cristo Gesù che significa Salvatore è il nome proprio di colui che è Dio e uomo Salvatore letteralmente Yahweh salva Yeshua non gli fu imposto a caso per volontà e decisione umana bensì per decisione e comando di Dio infatti l'angelo annunciò la madre di lui ecco concepirei nel seno e partorirà un figlio al quale porrà il nome Gesù Gesù è un nome scelto dalla Santissima Trinità e più tardi non solo comandò Giuseppe sposo della Vergine di chiamare il bambino con quel nome ma ne addusse anche la ragione dicendo Giuseppe figlio di Davide non esitare a prendere Maria un tuo consorte poiché quel che è nato da lei in lei è da Spirito Santo partorirà un figlio cui porrà il nome Gesù perché egli libererà il suo popolo dai suoi peccati anche qui pensiamo alla nostra società contemporanea che non sa più neanche che cos'è un peccato o meglio si rifiuta di riconoscerlo come tale quale ruolo può avere il nostro Signore in questo contesto nessuno è ovvio che è così in questo contesto molti personaggi veramente portano nella Sacra Scrittura questo nome per esempio cioè Gesù il figlio di Nave che successe a Mosè Giosuè Giosuè non lo chiamiamo Giosuè ma Giosuè in realtà il nome è Yeshua come quello di Gesù e cosa questo negato introdusse nella terra promessa il popolo liberato da lui dall'Egitto e anche il figlio del grande sacerdote Giosuè ma con quanta maggiore verità non troviamo noi che esso conviene al nostro Salvatore egli infatti conferì la luce la libertà la salvezza non a un popolo ma all'umanità di tutti i tempi umanità non già oppressa dalla fame o dal dominio egiziano babilonese bensì sperduta all'ombra della morte gemente nei durissimi cespi del peccato e del diavolo guadagnò per lei il diritto ereditario del regno celeste e la riconciliò con Dio Padre cioè questa condizione deve essere assolutamente coscientizzata una persona che non vive in grazia che non vive in comunione con Dio si trova nei durissimi ceppi del peccato si trova nelle mani del diavolo si trova sperduta nell'ombra della morte ha voglia a ostentare o a come dire mostrare la pseudo apparente e falsa felicità che mostrano i peccatori non è così e non lasciamoci mai ingannare che non è così una persona che non sta in grazia non è felice non lo è può verci tutti quanti i miliardi che vuole non lo è può godersi tutti i piaceri della vita che vuole non lo è quindi in quei personaggi dobbiamo scorgere l'affigurato Cristo Signore dal quale il genere umano fu ricolmato dei doni menzionati tutti i nomi del resto che furono preannunziati come riferiti per disposizione al figlio di Dio si riassumono in quest'unico nome di Gesù poiché mentre essi esprimono ciascuno sotto un passato dal punto di vista la salvezza che ci si trova in partire questo abbraccia l'efficacia e la ragione dell'universale salvezza e per questo video le mie cariche soltanto invocare il nome di Gesù solo chiamarlo e chiamiamolo il più possibile il meglio ancora sarebbe oltre che a chiamarlo fare gli atti di amore di adorazione di lode di ringraziamento fatto questo se qualcuno teme l'inferno abbia i nomi di Gesù e di Maria frequentemente sulle labbra nei cuori e siano oggetti del loro amore illimitato immenso se uno ha il nome di Maria e di Gesù nella mente nel cuore nei pensieri e nella bocca all'inferno è impossibile che ci vada ecco perché mi si permette di chiudere anche perché oggi è 30 di ottobre stiamo alla vigilia della chiusura del mese di ottobre del mese del rosario ecco perché il rosario è preghiera così importante ogni volta che noi recitiamo l'Ave Maria nominiamo per due volte il nome di Maria e per una volta il nome di Gesù e dall'invocazione di questo nome deriva tutto il bene che noi possiamo avere vivere e ovviamente tutto quanto l'inferno tutto quanto il lutto in cui vengono precipitati gli abitanti delle regioni tenebrose e che vagano sul pianeta terra per cercare di portarci con loro nella loro depravazione e dannazione cosa che però non è mai loro possibile se la nostra volontà persevera e rimane integra nel voler dare gloria culto e servizio a colui che ci ha creati così facciamo una sintesi ci conserva nell'essere e dopo i guai che abbiamo combinato ci ha inviato gratuitamente il redentore il salvatore il figlio di Dio ha fatto buono bene la prossima volta continueremo appunto ad approfondire il mistero dell'incarnazione con il paragrafo dedicato a Gesù Cristo all'esercito del profeta ma appunto di questo ne parleremo a partire dalla prossima volta Dio vi benedica amici cari la Santa Vergine mi protegga una santa notte a chi ha seguito la diretta e alla prossima